ottimo pronti qua a vedere quanto resisto in quest'isola maledetta qua meglio un punto di vita con 0 cominciamo bene spendo un punto in giriamo un'altra carta 0 è uno degli uni andato poi beh 4 per 4 delle proprie di no questa è una carta per 0 sì questa era facile 5 per 5 tanto meno quindi una carta per 0 no spendo un punto si vediamo se viene fuori un altro a me di una carta sotto la pila spende un altro punto vabbè sono sotto di due quindi punto via due punti vita e questi due meno uno vanno qua questo va qua e questo acqua 5 per 5 la stessa come prima no quindi due carte per uno una e una due spendo un punto per avere uno perfetto 4 per 4 anche no due punti per uno una e due benissimo questa la uso per curarmi di due e queste qui vanno qua copia un livello la tengo il livello quindi una carta per 0 sì è un punto vita tre per due però qua sono andati via il 2 andato 1 il 2 ci sarebbe solo un altro uno in mezzo quindi poco cambia tengo questo pesco tre carte 1 2 e 3 e butto via due punti per togliere questi zeri questa proviamo con lo zero qua ovviamente no e quindi butto via un punto e scarto questa proviamo questa con lo zero ancora butto via un altro punto butto via questa ed è questa quindi la prima è questa qua si invecchia robinson cos'è almeno due sciocco vediamo la mescolata e quindi 32 e 3 sono sotto di uno pesco una carta anche bene tappo pesca due carte 1 e 2 tap per due punti vita sono sotto di uno quindi butto via un punto e butto via uno zero queste vanno degli scarti queste due carte per uno uno questo è un punto dita mi interessa di più adesso che spreco che spreco che spreco questa è bella distrugge una carta sì mi ritengo distruggi una carta quindi uno vabbè questo non può andare una e due pesco una ok peccato e queste due qua mi tengo coppia metti sotto coppia ritengo quindi due carte 1 perfetto finito il primo mazzetto cioè la prima il primo giro adesso passiamo alle gialle che vogliamo una bella mescolatina ecco che siamo al livello di difficoltà giallo quindi due carte come prima soltanto che adesso devo fare tre carte per cinque una carta con uno direi che una carta con uno ci potrebbe stare se venisse fuori uno pesco uno più un punto vita questo lo giro ma lo recupero però la spendo subito per pescarne un'altra meno due vabbè sono tre punti sotto e quindi perdo tre punti che sono due per questo schifosissimo sciocco qua e uno per questo meno uno qua questa va qua e questa va qua tre carte per cinque proviamo allora uno diventa un citrullito diventa disattento 2 e mi fermo perfetto copia l'abilità di un'altra carta quindi copio questo quindi prendo due punti vita che ho fatto anche sì ciao ho fatto cosa ho fatto che scemo molto devo arrivare a 5 quindi direi che ne pesco un'altra posso prendermi un altro punto vita e devo fare 5 5 5 bene pesco un punto per fare 0 un altro punto per fare un 2 bravissimo e sono a 4 cavolo era meglio se tenevo questa qui perché ho sbagliato perché non ho visto allora spendo un altro punto per no lo scemo 8 meno 1 quindi sono a 3 sono due di differenza questi due che perdo è avuto riesto disattento qua e tutti questi purtroppo vanno gli scarti perché ho sbagliato due carte per fare 3 1 e 2 pesco un'altra e 3 guarda che guarda che guarda guarda cavolaccio però solo quattro punti forza dai quattro punti quattro carte per sette troviamo quattro carte per sette vediamo quanto duriamo 0 0 0 e 0 e qua abbiamo risolto allora tappo questo qui e quindi diventa 4 pesco due carte a gratis una e una due e sono sotto di tre direi che guardo se il 2 è andato il 2 non è andato quindi pesco una carta pesco un'altra carta tappo per due punti vita mai pesco un'altra carta e verrà fuori a sto cavolo di 2 qua distruggono una carta che è uno zero e sarei sotto di 3 e ma c'è tre punti vita quindi tanto vale che spenda uno per vedere di fare uno perfetto e ne spenda un altro per vedere se viene fuori quel cavolo di due finalmente un milione di carte per prendere una carta schifosa e questo è una carta per uno dire che quindi una carta per uno no però tappo per prendere un punto vita e questa va qua e questa va qua qua devo rimescolare non ho assolutamente punti forza uno per uno uno per uno scambia scambia uguale quindi una carta per uno 3 beh manipola le prime tre carte direi che lo faccio quindi una due tre una di queste possono anche scartarla e gli altri le metto come voglio re tanto non cambia niente questa è presa questa è presa siamo le punti vita qua quindi due carte per tre queste sono zero qua prendo un punto ma che spendo subito per pescare qua meno un punto vita grazie sono sotto di uno speriamo e due quindi pesco una carta guarda santi luvi non posso più spendere ho perso grazie per aver guardato questo video alla prossima